Le tematiche del riciclaggio e dei mezzi di trasporto sono molto vicine a noi come studenti e cittadini e inizialmente è stato difficile trovare l'idea, ma con l'aiuto di Mentor siamo riusciti a realizzare un progetto utile per la città di Milano. Il nostro gruppo ha quasi finito la preoccupazione del progetto e abbiamo anche effettuato con l'aiuto dei Mentors il Business Model Canvas negli uffici di C.B. Morgan a Milano. Grazie.